Una ragazza, un albero, un albero in fuoco. L'hai visto veramente? Sì. E tu cosa hai fatto? Ho fotografato. E tu cosa hai fatto, e tu cosa hai fatto, e tu cosa hai fatto? Non mi ha detto niente su ti te. L'amoria te l'ai... Un pezzo. Non, 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 non. E poi? J'ai arranger tutte queste putine negative. Je l'ai mise avec les autres. E poi, j'ai arrêtato di fotografia. Grazie a tutti.